Come avevamo pronostiato nei primi giorni di aprile siamo arrivati alla consegna dei lavori formali, abbiamo sottoscritto il contratto e abbiamo consegnato i lavori per quanto riguarda l'intervento sulla riqualificazione di Vial Europa. La ditta Coprola, che ha vinto la gara, è un consorzio di Senigallia che ha vinto la gara per la generazione dei lavori, installerà il cantiere all'interno di piazza Santito, quindi nell'antistante all'autostazione e inizierà i lavori che avranno una durata circa prevista di 90 giorni. Quindi contiamo, prima dell'estate, di aver completato tutti gli interventi a riguardo alla rifiantumazione del Viale, il nuovo fondo bianco, perché non verrà utilizzato un materiale che sia filtrante e che ricordi la struttura originale del Viale. Verrà rifatto un nuovo area d'urbano, verrà riqualificato all'illuminazione, insomma un intervento importante che darà una nuova luce a un'arteria centrale importante del nostro lavoro.